Musica Probabilmente uno degli smartphone più attesi nella fascia medio-bassa di mercato è il tanto chiacchierato Umitouch che abbiamo oggi in prova il dispositivo in questione è interessante per diversi aspetti a partire dal prezzo davvero molto basso si parla di circa 130-150 euro per questo device a seconda dello store del presso il quale lo si acquista un device che presenta un processore octa-core Mediatek 6753 un corpo interamente in alluminio un sensore di sblocco tramite impronta digitale nella parte frontale e tante altre peculiarità che smartphone di questa fascia di prezzo riescono solamente a vedere da lontano col cannocchiale ma andiamo a scoprire oggi se effettivamente le potenzialità di Umitouch sono confermate e se conviene acquistare questo smartphone e soprattutto se Umitouch diventerà il nuovo Best Buy nella fascia di prezzo di poco di sotto dei 150 euro scopriamo dunque tutti i dettagli nella nostra recensione completa il box di vendita è piuttosto piccolo ed il contenuto è ridotto all'essenziale al suo interno infatti abbiamo lo smartphone seguito dai manuali di istruzione e dalla spilletta per la sim il cavo usb per la ricarica e il trasferimento dei dati e il caricatore con ingresso usb e uscita 1A che è non di certo il primo della classe in tempi di ricarica ispirato in tutto e per tutto ai device di casa Meizu Umitouch nel complesso possiede un design davvero niente male è realizzato interamente in alluminio la back cover e unibody e tutte quante le rifiniture sono state curate nei minimi dettagli dal produttore cinese seppur il device rientri nella categoria dei low cost le dimensioni dell'Umitouch non sono molto contenute ed il peso di 190 grammi durante l'utilizzo effettivamente si fa sentire l'alluminio è ben lavorato gli angoli del device sono ben rifiniti con una modellazione fatta quasi ad arte impeccabile quindi sul fronte design e realizzazione sul quale davvero non gli si può dire nulla dando uno sguardo nella parte destra invece è presente il tasto di accensione oltre che il bilanciere per la regolazione del volume sul lato sinistro è collocato il carrellino per le due sim sulla parte superiore invece è presente il jack da 3,5 per le cuffie e nella parte inferiore abbiamo il microfono principale assieme al connettore micro usb il display di cui Umitouch è dotato è un'unità da ben 5.5 folici full hd un pannello di matrice IPS e densità di pixel pari a 401 ppi analizzando sul campo il display siamo rimasti abbastanza soddisfatti nel complesso anche se ci sono da evidenziare alcune problematiche la trattura dei colori innanzitutto è buona ma gli angoli di visuale lasciano a desiderare quando si vire il display colori come il nero ad esempio tendono al grigio con molta facilità la luminosità massima dello schermo inoltre è soddisfacente e non si incontrano grossi problemi sotto la luce del sole aspetto negativo poi il touchscreen il quale è decisamente poco reattivo pur avendo rimosso le pellicole protettive infatti il touch risulta essere lento e poco preciso aspetto sicuramente da non sottovalutare per coloro abituati a scrivere molto velocemente ciò che stupisce maggiormente in questo device per la fascia di prezzo in cui si inserisce è certamente la scheda tecnica che si compone di una CPU Mediatek MT6753 octa-core a 1.5 GHz, 3 GB di RAM, GPU Mali 720 componenti quindi sulla carta interessanti che però senza un buon software contano davvero ben poco a livello prestazionale infatti alcuni aspetti non soddisfano la riproduzione di video scorre liscia come l'olio con filmati in full HD sia MKV che MP4 ma i 4K purtroppo dalla piattaforma hardware non sono supportati lo speaker invece è solo sufficiente seppur l'equalizzazione sia buona il volume è piuttosto basso e la collocazione dell'altoparlante fanno perdere qualche punto in pagella l'umitaccio il gaming con Asphalt 8 è leggermente sopra la sufficienza eseguendo il gioco a dettagli massimi si ottiene un framerate non molto alto il gioco risulta essere abbastanza scattoso e poco ottimizzato così come altri titoli che abbiamo avuto modo di testare percato per questo aspetto che avrebbe meritato sicuramente qualche attenzione in più da parte di UMI con il browsing web infine non si incontrano grosse difficoltà le interazioni con i siti web tuttavia non sono particolarmente scattose ed il tutto non supera di molto la sufficienza i caricamenti delle pagine sono piuttosto veloci a patto di non utilizzare la rete dati mobile che non è molto affidabile e performante UMI Touch è dotato di una fotocamera posteriore da 13 megapixel con sensore Sony IMX328 dotato di doppio flash LED la camera anteriore invece è un'unità da 5 megapixel nei test approfonditi sul campo anche su questo fronte abbiamo riscontrato delle difficoltà di utilizzo innanzitutto il tempo di scatto è molto prolungato si basti pensare che trascorrono circa 3-4 secondi da quando si preme il pulsante all'effettiva realizzazione dello scatto e di più delle volte lo scatto risulterà mosso indice di un pessimo lavoro da parte dello stabilizzatore d'immagine per ciò che concerne la qualità fotografica poi purtroppo non si possono esprimere pareri positivi in quanto i colori delle fotografie anche diurne sono leggermente smorti e pastosi motivo per cui la fotocamera non ci è assolutamente convinti lì dalla camera posteriore di UMI Touch sensore da 13 megapixel video in full HD proviamo subito i cambi di luce in questa giornata uno degli aspetti in cui ci ha lasciato i più perplessi questo device è quello relativo alla connettività lo smartphone innanzitutto è dotato di un doppio alloggiamento SIM che supporta pienamente le reti in 4G inclusa la banda 20 tuttavia nell'utilizzo di ogni giorno abbiamo riscontrato delle difficoltà nel mantenere il segnale stabile sulla rete oltre che delle difficoltà vere e proprie nella navigazione internet sotto rete mobile la rom di cui UMI Touch è dotato è una versione stock basata su Android 6.0 Marshmallow come tale integra a bordo parte delle funzioni innovative aggiunte sulla nuova mail release del sistema operativo del robottino verde tuttavia però il sistema è abbastanza ben ottimizzato è privo di applicazioni di terze parti ed anche la suite di app Google è ridotta all'osso con il solo Play Store e Google Now installati tra le aggiunte del produttore a livello di funzioni e personalizzazioni troviamo la modalità Turbo Download e le solite gesture dotato di una batteria da ben 4000 mAh l'UMI Touch su questo fronte ci ha soddisfatti appieno senza se e senza ma il device di casa UMI infatti ci permette di concludere una giornata intera dalle 8 alle 21 le ore di schermo attivo con il nostro tipo di uso fatto di scambio di messaggi su Whatsapp, Telegram e social network con lo smartphone abbiamo raggiunto quasi 4 ore e mezza di schermo attivo risultato molto buono per la fascia di prezzo in cui si colloca il dispositivo ebbene sì, sembra da strano a dirsi ma UMI Touch come si è capito durante il corso di tutta quanta la recensione ha tra i punti più deboli in assoluto a proprio quello relativo al touch screen che secondo me non convince appieno e per i digitatori folli che scrivono velocemente sullo schermo dei propri smartphone è davvero un peccato insomma perdere un pannello di questo tipo con un touch così di bassa reattività in ogni caso UMI Touch è un device che è abbastanza consigliato dico abbastanza perché nella fascia di prezzo con lo stesso hardware veramente si fa difficoltà a trovare altri prodotti con le stesse caratteristiche però a livello di ottimizzazione sicuramente ci saremmo aspettati un lavoro migliore da parte di UMI su questo prodotto che nel complesso non è né carne né pesce ha una fotocamera leggermente scadente ha una batteria d'altro canto che invece riesce a sopportarci ad accompagnarci durante tutto il corso della nostra giornata di utilizzo però ci sono un po' di cose che ci fanno storcere il naso e che ci fanno mettere da parte un prodotto come questo apparentemente molto interessante e che effettivamente corretto qualche piccolo aspetto potrebbe diventare un nuovo Best Buy del momento per il momento è tutto io vi lascio anche i link in descrizione alla recensione testuale completa e ovviamente iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e vi invito a continuare a seguire per tutte le altre nostre recensioni per adesso è tutto un saluto da Nicola per GizChina.it per GizChina.it